Nel brano del Vangelo di questa domenica facciamo la conoscenza con i Sadducei. Costoro costituivano l'aristocrazia del popolo ebraico e sostenevano che non c'è la Ressurrezione. I Sadducei potrebbero essere equiparati ai materialisti di oggi, a coloro cioè che ritengono credibile solo quello di cui si ha esperienza sensibile. Per loro tutta la vita si gioca qui e ora. I Sadducei dunque, con un esempio concreto, ritengono dimostrare ai credenti nella Ressurrezione che essa è ridicola ed assurda, frutto della superstizione popolare. La risposta di Cristo offre una prospettiva seria ed alta della vera vita dopo la morte. Dice Cristo Morte non è la logica conclusione dell'esistenza. Esiste un altro mondo. Poi dichiara che la vita eterna non può essere concepita come una vita simile a quella terrena, quasi un prolungamento dell'esistenza presente. E ne offre le ragioni. Coloro che sono giudicati degni di entrare nella vita eterna sono figli di Dio, appartengono a Lui, al cielo, all'infinito. Sono uguali agli angeli, dice Cristo. La fede nella Ressurrezione finale è tutta la vita del cristiano e si fonda sulla Ressurrezione di Cristo, la quale è un evento accaduto dentro la storia, ma che va al di là della storia. Tuttavia è bene ricordare che la Ressurrezione di Gesù, sebbene va dal di là della storia, ha lasciato un'impronta ben marcata in essa. È attestata da testimoni che hanno visto Cristo risorto vivo. Maria Maddalena, gli Apostoli, le donne, i discepoli di Emmaus, più di 500 persone, Paolo di Tarso. Da loro il Signore dopo la sua morte si è fatto toccare. Con loro ha parlato, ha mangiato, li ha ascoltati. Così li ha persuasi che Egli è vivo e con il suo corpo trasfigurato vive definitivamente nel mondo di Dio. Il Signore in cui crediamo è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei vivi, che non abbandona chi crede in Lui in potere della morte. La potenza di Dio, che all'inizio operò la creazione dell'uomo dal nulla, alla fine opererà pure la sua Ressurrezione da morte, la quale è opera non della natura, ma dell'onnipotenza divina. Tutto, infatti, è possibile a Dio. Possiamo dunque affermare che il cristianesimo annuncia la morte della morte e la potenza e la certezza della Ressurrezione. La cultura di oggi, invece, si ostina a rifiutare tutto ciò che supera la nostra dimensione temporale e spaziale, ma in questo modo condanna l'uomo a subire la più pesante delle amputazioni. Infatti, senza Dio l'uomo non conosce se stesso, ignora la sua vera dignità e la sua vera grandezza, perché rimane ancorato alla terra e viene derubato della speranza.